Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e il vostro vampiro preferito e benvenuti in questo nuovissimo video della serie con le mod Quest'oggi esploreremo le nuove dimensioni e completeremo le nuove sfide che la mod Advent of Ascension ci propone Infatti mi avete spiegato che questa pietra qua ti permette di vedere che sfide devi superare per andare nelle diverse dimensioni Quindi esiste il mondo Mysterium, esiste il Voxpons, esiste Creeponia, ovviamente il Nether, poi c'è Deeplands, Pricasia Ci sono veramente tantissime nuove dimensioni da esplorare e per accedervi dobbiamo fare delle cose piuttosto complicate Quindi adesso ve lo spiegherò pian piano Voi mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video perché io so che vi piace tantissimo la serie con le mod E adesso andiamo avanti Quindi 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 allora oh no 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 non andiamo avanti perché è giorno quindi andiamo subito a dormire Del resto io sono ancora un vampiro e ho paura della luce del sole Prendiamo degli altri cuori umani perché altrimenti qua rischio di morire di fame Siamo già dei vampiri di livello 11 il che è molto molto potente Al momento non voglio continuare a salire di livello non ne abbiamo bisogno Cerchiamo di analizzare per bene questa nuova pietra delle dimensioni Per capire come funziona e soprattutto come viaggiare nei vari portali Quindi per esempio per andare nel portale del nether mi basterà tirare una di queste pietre qua che sto utilizzando adesso All'interno della lava questa è la sfida che devo completare Io devo trovare adesso una pozza di lava Entrarci dentro senza morire e gettare via una di queste Infatti io adesso ne ho due In pratica questa pietra la ottieni ogni volta che leggi uno di questi libri qua Poi per andare invece per esempio negli abissi infernali Devo completare questa challenge ovvero spawnare un wither all'interno del nether Queste sfide da completare ti daranno una chiave Queste sono tutte le chiavi per tutte le nuove dimensioni Però ovviamente non puoi accedere alle nuove dimensioni soltanto con le chiavi No devi avere anche il portale e il portale si crafta con le rune antiche Allora questo libro mi dice che ho bisogno della runa della realtà Runa dei viaggi, runa dello spazio e runa della direzione E in più serve anche la runa del potere Quindi noi adesso dobbiamo trovare soltanto la runa del viaggio E dopodiché dobbiamo craftare la runa del potere per creare il nostro portale Per craftarla è semplice ci serve la pietra antica, un occhio dell'end e soprattutto un unpowered rune Questo non so dove si ottiene Ok mi serve il runium ore, mi serve l'oro di runium E lo devo cucinare Ok Fidatevi ragazzi che ne vale assolutamente la pena Questa mod è una figata pazzesca Contiene tantissime dimensioni, tanti nuovi boss e soprattutto tante sfide mozzafiato Quindi cerchiamo una caverna proprio al volo Dopodiché ci entriamo dentro e andiamo alla ricerca di un altro viaggiatore corrotto Che cavolo? Oh mio dio pensavo... Vi giuro ragazzi pensavo fossi pipì Da lontano mi sembrava pipì E invece è semplicemente un drago che mi sta dando fuoco Draghetto dai per favore non ti voglio uccidere Io sono molto più potente di te, lasciami stare per favore Allora prendiamo la nostra pala E scaviamo sotto terra Perché come vi dicevo appunto Dobbiamo trovare un nuovo portale sotto terra E dobbiamo trovare il runium Che è un nuovo materiale Da cucinare all'interno di una fornace Per poi creare quella pietra che ci serve per creare il portale La troverò una caverna prima o poi o sono la persona più sfortunata del mondo? Andiamo Allora quindi devo trovare un viaggiatore corrotto Tra l'altro se vedete che sono più veloce è perché ho aggiunto delle nuove abilità al vampirismo Tu che cavolo sei? No tu non mi servi a nulla E soprattutto se riesco a trovare il runium qua in caverna Devo prenderlo Quindi per riconoscerlo sembra un pochettino Sembra tipo il carbone Però un pochettino più chiaro Quindi un carbone più chiaro Ecco cosa dobbiamo cercare Ok i dungeons con le ceste non ci credo Non c'è la cesta Oh oh Fatti una calmata Dicevo i dungeons con le ceste sono utilissimi Quindi se riesco a trovare qualche cesta qua in giro Devo assolutamente aprirla perché ho bisogno di trovare anche la runa del viaggio E dopodiché posso anche pensare a craftare la runa del potere Questo qua non è runium giusto? No questo qua è pietra Sì questo è darkstone Chi sei? Il bruto? Oh 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 Stammi alla larga E' pieno di mostri strani ragazzi grazie a questo mod Oh cavolo Ehi calmi tutti Non ci vedo più Aiuto Aiuto Quanto dura? Ok Oh Oh mio dio Il cacciatore senza testa Mamma mia che paura ragazzi Ok qua c'è un drago A noi non interessano i draghi al momento Questo qua non è il capitolo dei draghi Siamo nel capitolo della Advent of Ascension Tra l'altro questo capitolo si mischia perfettamente al capitolo dei vampiri Perché ho bisogno di essere super potente Questi blocchi sono strani Non li ho mai visti Ah sì che li ho visti Fantastico Ho trovato un altro viaggiatore corrotto Ciao Questo portale contiene Per caso No Non ha una runa Allora io l'altra volta ho avuto molta fortuna ragazzi Perché io in questo portale avevo trovato una delle rune Vabbè in ogni caso Questa pietra antica ci serve Per fare il rituale Quindi la prendiamo Adesso ci serve il runion E dopodiché dobbiamo trovare La runa del potere E la runa del viaggio Questo è il runium Mi sa di sì perché non è come il carbone Il carbone è un pochettino più sbiadito Vediamo Oh no cavolo non lo devo prendere Runium ore ok È questo Però fermi Non lo devo prendere con il piccone con tocco di velluto Porca miseria aspettate Ce l'ho un altro piccone senza tocco di velluto No aspetta No questo è tocco di velluto Questo non aveva tocco di velluto Ma come mai mi dà i blocchi e non mi dà Ah è vero perché devo metterli nella fornace Adesso devo mettere questo oro a cucinare Perfetto In questo modo mi dovrebbe dare le pepite E poi con le pepite posso craftare Le unpowered rune Quindi le rune senza potere Da mettere in questo modo Con una roccia antica e un occhio dell'end E posso craftare La runa del potere Che mi servirà per attivare il mio portale Quante ce ne servono esattamente? Con uno ci dà Ah con uno soltanto ce ne dà 16 Ok allora dovrei essere già a posto Perfetto ne abbiamo 32 Bene basta 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 Non ci serve più Mettiamo questo qui Ottimo Adesso quello di cui abbiamo bisogno è soltanto La runa del viaggio Che dovrei riuscire a trovare qua in giro In qualche cesta Oh no non ci credo Ti prego No No ma questo che cos'è? Heart striker Oh mio dio una spada 306% di velocità d'attacco Ma che dici? Oh mio dio ma è velocissima Ok dobbiamo cercare delle altre ceste Perché nelle ceste posso trovare le rune che mi servono Io direi di craftare già immediatamente quell'altra Ce l'ho degli occhi dell'end Dovrei averli Prendiamo la pietra antica La mettiamo qua E infine questo qua Ok abbiamo craftato la runa del potere Fantastico Ci resta l'ultima runa da craftare Dopodiché potremo creare il nostro portale magico Allora buttiamo la spectrite Che ormai non ci serve a nulla Anche l'ametista Anche questo Questo ci potrebbe servire Questo ci potrebbe servire Via questo Via questo Via questo Devo fare un pochettino di spazio nel mio zainetto E mettiamo le nostre rune qua in ordine Adesso ragazzi Devo andare alla ricerca Della runa del viaggiatore O runa del viaggio Non lo so esattamente come si chiama Però dovrei riuscire a trovarla in qualche cesta Per fortuna Queste caverne sono piene zeppe di ceste Oh mio dio un altro portale Ciao Rune No zero rune Le commerci No le commerci Peccato Peccato si Un bel dungeon Proprio quello che ci serve Togliamo via questo Non mi serve a nulla E qui invece Runa dello spazio Runa del viaggio Perfetto In più abbiamo anche questi oggetti Strani Con dei simboli strani Che non prenderò al momento Ametista Una magia Ok Bene non importa A noi servivano soltanto queste rune E le abbiamo trovate Quindi buttiamo quello che non ci serve Adesso Devo provare a completare Una delle sfide Allora La mia prima sfida È quella di gettare Questo oggetto qua All'interno della lava Però devo essere Interamente sommerso Dalla lava Però non so se devo gettarlo Qui nel mondo normale O se devo gettarlo Nel nether Questo qua Non lo specifica Io presumo Nel mondo normale Quindi andiamo alla ricerca Di Un bel po' di lava Ci sarà qua una bella piscinotta di lava Forse anche questo Dovrebbe andare bene Mi devo fare un bel bagno Qua dentro 3, 2, 1 Ok Ne ho due no? Ce l'ho l'altra? Sì ce l'ho Andiamo Così E ora l'oggetto Ok Perfetto E adesso mi ha dato La pietra Del nether In questo modo Io posso accedere Al nether Utilizzando il mio Nuovo portale Ok Non mi resta che tornare a casa E costruirlo Quindi Siccome sono molto lontano Mi ucciderò Questo qua ragazzi È soltanto un test Quindi io adesso creerò Il mio nuovo portale Che mi dovrebbe fare accedere Alla dimensione nether Ovviamente posso accedere al nether Anche normalmente Non ho bisogno di certo Di questo qua Però Questo qua Mi serve Perché dopo essere entrato Nel nether Potrò accedere Agli abissi Quindi Devo fare tutto in ordine Dal mondo normale Al nether Poi agli abissi E poi Posso andare a grecond Posso andare a dastopia E infine posso andare Negli shy Relance Quindi capite Che mi serve Fare ogni singolo portale Ogni singola chiave Quindi 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 Mi è sembrato di capire Che funziona come un portale Del nether Io devo fare Questo Dopodiché Devo riempire Devo riempire il tutto Con della pietra antica Credo di sì Adesso metto questo qua Poi questo lo metto qua Non importa dove metti le rune L'unica cosa importante È che le inserisci tutte Così Poi così Ne metto una qui E poi infine E poi infine così Questo sarà il nostro Nuovo portale E questa qua La runa della realtà L'ho già inserita Ce l'avevo semplicemente doppiona Quindi adesso Mi basterà cliccare Con questo qua All'interno Ed ecco qua Abbiamo creato Il nostro nuovo portale Per accedere al nether Io adesso Ce le ho per caso Delle teste di wither Perché ora mi chiede No non ce le ho Quindi adesso Devo trovare Delle teste di wither Spawnare il wither All'interno del nether Per ottenere Una nuova chiave Ovvero la chiave Per accedere A questa nuova dimensione La dimensione abissi Molto bene Entriamo nel nuovo nether Perfetto Sta cambiando tutto Quanto attorno a noi E il portale È un portale Dorato Allora Perfetto Io ora voglio esaminare Se questo qua È come il nether normale O se è diverso Perché a questo punto Io non lo so Questa è una nuova dimensione Potrebbe anche essere Completamente diverso Però al momento Mi sembra normale Sinceramente Vediamo 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 Sì È normale E tu chi sei? Il wither wizard Oh mio dio Il mago del wither No 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 Muori Che cavolo Cosa mi hai dato? Un regalo Oh Allora A noi serve trovare Una fortezza Per uccidere I wither scheletri E dopodiché Spawnare Un wither All'interno del nether Per accedere Alla prossima dimensione Quindi io adesso Sono un viaggiatore Del tempo Ragazzi Sono diventato Un viaggiatore Del tempo E delle dimensioni Vi rendete conto? Questo che cos'è? Cos'è questo altare? Sono dei blocchi Che non riesco a scavare Beh se lo sapete Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Per favore Mostro infernale E angeli di pietra No non mi piace La situazione Andiamo via Cavolo ragazzi Questo episodio sta durando Veramente tantissimo Se non avete ancora lasciato Mi piace Mi raccomando Fatelo Perché le cose Si stanno facendo Super interessanti Adesso Là abbiamo il teschio Di spectrite Che non ci serve Al momento Ho visto proprio bene Scendiamo in picchiata Mio dio E' pieno di nuovi demoni Qua dentro Ragazzi Ci sono tanti Nuovi mostri Ok A noi servono Soltanto Gli scheletri Wither scheletri Dove vi nascondete Fatevi vedere Dovrebbero essere qui Ne ho combattuti tantissimi E' desolato E' una mia impressione Questo posto E' totalmente desolato Ok Forse non si era ancora caricato Si forse gli dobbiamo dare Eccoli Perfetto Io ho una spada Con looting 3 Quindi dovrei riuscire A trovare le loro teste Con molta facilità E buttiamo quello Che non ci serve Al momento Tutta questa roba Può anche andare via I tokens Non so cosa farmene Flamewalker Camminatore delle fiamme Ok 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 Calmi tutti A me servono Soltanto I Wither scheletri Al momento Quindi andremo Alla ricerca di loro E basta Anzi Sapete cosa mi serve anche Mi serve la soul sand Ovviamente Senza la soul sand Non posso mica spawnare Il Wither Quindi vediamo Se riusciamo a trovarne Un po' Quindi La nostra prossima missione E' quella di spawnare Il Wither All'interno del nether Per ottenere Una nuova chiave E poi cambiare Di nuovo il nostro portale E avere una nuova dimensione Ciao piccoli Wither Venite qua Teste Zero teste Beh ragazzi Ci rivediamo Non appena le trovo Tutte e tre Oh Trovata Ok Ho trovato L'ultima testa Adesso ne ho ben tre Buttiamo via Tutto quell'altro Che non ci serve Tu chi diavolo sei Gatto dell'inferno Oh mio dio Adesso non devo fare altro che Tornare di nuovo vicino al mio portale E dopodiché Spawnare il Wither All'interno del nether Per completare un'altra sfida Bene Il Wither non dovrebbe darmi Filo da torture Stiamo parlando comunque Di un boss Abbastanza scrauso Considerato A quegli altri Che ho già combattuto E già mi ha dato la chiave Eccola Chiave per entrare Negli abissi Fantastico Beh in realtà Non dovrei neanche ucciderlo Però Io lo voglio fare Ma sta già prendendo danno Ehi Ehi dove pensi di andare Io ho combattuto Draghi E divinità Molto più potenti di te Secondo te Mi darai filo da torture? Sei un buon annulla Muori Ok Bene Mi ha dato anche qualcosa Che cos'è sta roba? Wither cannon Cannone del Wither Ok ragazzi Facciamo così Torniamo adesso al portale Che dovrebbe essere Esattamente qui Da qualche parte Eccolo qua Rientriamo nel nostro mondo Cavolo C'è un problema È giorno Devo andare a dormire immediatamente Adesso Tecnicamente Io posso cambiare La destinazione Di questo portale Utilizzando Questa nuova chiave La chiave Per entrare negli abissi Beh ragazzi Direi che questo video È durato fin troppo Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto E soprattutto Fatemi sapere Se siete contenti Di queste novità Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao